Puntata ricca di sorprese quella di Affari Tuoi del 9 ottobre 2024. Come sempre non mancano le emozioni. Anche con la conduzione di Stefano De Martino sono l'unica garanzia, oltre a quella degli ascolti sempre alti. E anche stavolta ne sono successe delle belle. Andiamo a vedere cos'è successo. Le concorrenti sono Federica e Anna Lisa, gemelle, della regione Basilicata, soprannominate, le gemelle diverse. Due concorrenti simpatiche e spigliate. Presentandosi però una concorrente, parlando della sua vita, lascia gli spettatori in lacrime. Ho due figlie in terra e una in cielo. Il pubblico è visibilmente commosso e parte un applauso molto spontaneo. Il gioco può continuare ma con grandissime emozioni già dai primi minuti della puntata. Insomma nulla di nuovo. Gli italiani amano guardare affari tuoi. Nel bene e nel male il programma continua a tenere le persone davanti allo schermo.